Quando ho bisogno di forza mi viene l'impulso di meditare, non ho detto svuotare, diventare vuoti è il contrario e un artista lo sa, bisogna mettersi interiormente a posto per poi fare qualcosa di più grande, sì, il pittore ha ragione, basta sentire, niente di più propizio di una cella. Colora, dipingi, immagina, immagina, colora, dipingi, immagina, dipingi, colora, colora, immagina, colora. Signor direttore vorrei il mio flauto, potrei riavere il mio flauto, farò di questa prigione un centro creativo invece che un centro di repressione. Quando sai che il destino, con certezza, che il destino ti sceglie, il tempo non è più il tempo, le ore sono anni, i minuti interi mesi, anche le ore sono settimane, niente, niente potrebbe entrare, non ci sono finestre, soltanto un buco e odore di ferro, di muffa e tu resisti, aspetti, ignori la data, tutto ti consumi, tutto nella speranza, sei un astronauta, non sai se tornerai mai sulla terra eppure tu le vedi dall'alto quelle stanze. prima dica il suo nome, giuri di dire la verità? tutta la verità, niente altro che la verità. La verità è che la giustizia dovrebbe essere più giusta. Dall'altra parte del muro non si rieduca chi ha avuto la sventura di entrarci, si distrugge l'identità. Le prigioni sono un'industria e il carbone che serve alle caldaie è fatto della stessa sostanza dei prigionieri. Non divaghi eh! Si attenga ai fatti per favore! Lei non è qui per fare una conferenza, ma per rispondere alle nostre domande, chiaro? ... ... Grazie a tutti